Importante nel piano dell'amministrazione comunale per affrontare quella che sarà le strade dal punto di vista idrico, l'apporto che darà all'Oriolo. Sì, non solo quello, diciamo che noi siamo intervenuti quest'anno duramente su tutti gli acquedotti, siamo intervenuti sull'Oriolo che abbiamo riattivato e abbiamo una portata di 45 litri in più secondo. Abbiamo rimesso Montiugiano in condizione di mandare acqua pulita perché stiamo lavorando sui filtri a sabbia, sui carboni e in modo particolare stiamo risponendo un collegamento tra Montiugiano e l'Oriolo in modo tale che in caso di rottura di uno di due noi possiamo passare l'acqua sull'altra linea addottrice. Abbiamo risposto un progetto per unificare tutti gli acquedotti con il bypass del nord e sud della città, abbiamo verificato con tempo che i depuratori di Veiana e di Canale Monterano funzionano perfettamente in modo tale che non mandano i quami nel nostro bacino idrico, ci siamo raccomandati ai sindaci che controllassero i loro depuratori perché poi ovviamente se inquinano il nostro bacino non è la colpa nostra ma di chi inquina a monte, ma in modo particolare abbiamo predisposto il tutto per attappare tutti i buchi nel nostro acquedotto. In secondo luogo abbiamo risposto una gara d'appalto che aggiungeremo qualche giorno per la manutenzione di tutta la rete idrica in modo tale che se c'è un buco evidentemente una perdita, siamo in grado di rattopparla in tempi quasi reali. Abbiamo trovato quasi 200 buchi quando ci siamo noi, 200 perditi quando ci siamo insediati e oggi siamo sì e no a una decina. Questa decina che verranno riparati in tempi, ripeto, quasi reali o comunque in termini brevi ci consentiranno appunto di risparmiare acqua, risparmiare soldi, di prendere meno acqua dalla CEA, di incidere forse meno anche sulla bolletta idrica finale, ma in modo particolare ci consenti di poter sperare rispetto all'estate di avere acqua buona e a sufficienza. Questo è quello che abbiamo fatto. È ovvio se poi un depuratore non funziona, se si rompe all'improvviso un acquedotto è chiaro che non possiamo addebitarci a noi, anche se abbiamo già per tempo provveduto a comprare quei pezzi di ricambio che molto spesso, se è un sabato o una domenica o di verragosto, si dovesse rompere l'acquedotto e quindi non sono reperibili nei negozi questi pezzi di ricambio, invece noi ci siamo già approvvigionati per tempo di questi pezzi di ricambio che ci consentiranno, se si rompe un acquedotto, senza aspettare che apri un negozio di poterlo andare subito a metterlo e quindi riparare l'acquedotto. Quindi tutto abbiamo previsto e quindi abbiamo fatto in modo tale che non si possono verificare i disservizi. Poi di fronte, come si dice, all'imponderabile non possiamo fare niente. I latini dicevano ad impossibilia nemo teneture, cioè nessuno può essere tenuto a fare le cose che non sono possibili di fare e noi comunque quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, ci abbiamo messo tempo, danaro e soprattutto grande lavoro, speriamo che l'estate siamo in grado di non avere disservizi. Parlando sempre di settore idrico, si sta pensando ad uno sconto in bolletta per tutti i cittadini della zona nord che in questo periodo hanno un'ordinanza di non potabilità a causa dell'arsenico. Esattamente, stiamo vedendo di poter dedurre dalla bolletta quel costo che i cittadini stessi hanno sopportato anche se noi poi abbiamo provveduto con acqua potabile a dare noi al nostro carico con quella card che gli ha consentito di utilizzare 600 litri a famiglia. Però il servizio c'è stato e quindi cercheremo di valutare, di diminuire il costo della bolletta idrica proprio i servizi che i cittadini del nord hanno subito.